Durante i servizi quotidiani di controllo del territorio, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno fermato due ragazze che stavano per derubare alcuni turisti. Sottoposte a un controllo, si è scoperto che nei confronti di una delle due, una 22enne di origine bosniaca, pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma, per una serie di furti aggravati commessi quando ancora non aveva compiuto 18 anni. A quel punto i finanziari l'hanno arrestata e vista l'età inferiore ai 25 anni, in relazione ai reati commessi prima di diventare maggiorenne, è stata accompagnata presso l'Istituto Penitenziario Minorile Femminile di Pontremoli. Le attività di contrasto anche al fenomeno dei borseggi, delle fiamme gialle, insieme alle altre forze dell'ordine, continuano sia nel centro veneziano che in terraferma.